fare una discussione come avrei voluto fare io, ma quello che è successo stasera in qualche modo ci fa capire che è davvero complicato anche portare la televisione a discutere di queste questioni? Stasera è andata in scena una scena di dileggio del dissenso, a me dispiace sinceramente. Mi sento oggettivamente molto a disagio perché è stato insultato, eravate in 6 contro 1 una persona che merita assolutamente rispetto, quindi questa è la prima considerazione, ognuno si regoli come prede.